L'11 giugno andai in caserma all'ottantunesimo reggimento fanteria perché il colonnello doveva firmare questa domanda che avevo fatto per entrare, il maestro aveva già firmato, il maestro di musica, poi noi dipendevamo solo dal maestro, però il reggimento dell'ottantunesimo reggimento fanteria e il colonnello doveva avvistare questa cosa. Sono stato lì tutti i giorni, il colonnello non si è presentato perché stava al ministero della guerra, perché stavano organizzando queste partenze. Alle 10 di sera, stavo ancora al corpo di guardia per aspettare il colonnello che mi firmasse questa domanda, improvvisamente l'urlo delle sirene, le sirene d'allarme, l'allarme aeree. Il primo della tua vita? Il primo della mia, della vita di tutti, nessuno sospettava questa. Avevano detto ci saranno degli allarmi aerei, delle porzioni aeree, avevano dato certe determinate istruzioni, ma al momento in cui sentimmo l'urlo di queste sirene, gli prese il panico a tutti. L'ufficiale di Picchetto diventò bianco come una tovaglia. Io vedi questo e dico, oddio, ma che succede? Che succederà? Andò all'interruttore, invece di spegnere la luce, illuminò la caserma a giorno. Tutto illuminato. I soldati che stavano in camerata, stavano a dormire, avevano avuto l'ordine di lasciare le camerate, scendere giù, non fermarsi sotto al portico, né scendere in cantina, né andare nei sotterrani, ma andare in mezzo al cortile. Buttarsi per terra, faccia sotto, con gambe e braccia divaricate. Perché dice, se casca la bomba, lo spostamento d'aria dell'esplosione della bomba non fa niente, perché quando stai con gambe e braccia divaricate. Improvvisamente un silenzio, perché stavano aspettando questo, e si sentì un rumore d'aereo. Sembrava più una motocicletta che un aereo. Infatti era un aeroplanino piccolo piccolo così, francese, che non era venuto per bombardare, ma per tirare i manifestini. I manifestini dicevano italiani, non potete fare la guerra contro i vostri fratelli francesi, eccetera. Io mi domando che cosa quel pilota lì, sorvolando la caserma, avrà pensato e che cosa avrà riferito quando sarà tornata questa cosa. Ha visto la caserma illuminata giorno. Tutti questi bianchi lì, questi corpi distessi, questa cosa sembrava più, che ti posso dire, follie di brodovi, sai quelle cose acquatiche. Una festa. A un certo momento comincia un inferno di contraerea. Avevano piazzato le mitagliatrici su tutti i tetti delle caserme e avevano messo questi della riserva, questi vecchi, tutti i briagliatrici, cominciarono a sparare. Tutto prendevano, fuori chiaro, un aeroplanino che sorvolava questa cosa, campanili delle chiese, cornicioni, detti, pali della luce, tutto cascava. Tutti i bossoli delle mitagliatrici andavano sui culi nudi di questi soldati che stavano tutti stessi così sdraiati in mezzo al cortilea. 400 feriti ci fuori.